Prima di campionato stasera per l'Hockey Club Chiavenna di Mirko Freeman, l'allenatore finlandese che ha ereditato il testimone di Pavel Kavcic e che sta preparando gli atleti chiavennaschi alla stagione 2024-2025 del campionato di IHL Division I, i cui militano nel Girone Ovest. Il match è col Milano Deville, s'ultima squadra in classifica nella passata stagione, ma il presidente, pur confidando al massimo nei suoi ragazzi, preferisce andare con i piedi di piombo. La perplessità di un'opportunità di allenarsi sul ghiaccio che quest'anno non è stata del tutto adeguata per alcune mancanze da parte di Madesimo e da parte nostra che non abbiamo ancora il ghiaccio, ma l'allenamento fatto anche fuori Italia ha dato la possibilità comunque di garantire, di mantenere quella fiducia nelle proprie capacità degli atleti che quest'anno, soprattutto con gli ingressi nuovi di un ucraino e di un trentino, probabilmente sono sufficienti per poter mantenere uno stato emozionale abbastanza forte e poter intraprendere questa nuova stagione con tutti gli interessi di fare bene e di arrivare in alto. L'obiettivo qual è? Arrivare in finale. E la prima partita in casa, quella del 19 ottobre, riusciremo a giocare la Chiavenna? Stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di stimolare le figure sociopolitiche della Val Chiavenna affinché questo possa avvenire. Non so dire, non so sbilanciarmi se in sì o in no, però stiamo lavorando in questo. Ecco, confidiamo in Luca Dellabita e tutta la sua compagnia per poter fare in modo di poter avere già il 19 il primo spettacolo perché questa squadra può dare spettacolo.